Ciao da Filo! Avete già fatto l'albero di Natale? Io sì, è il mio, l'ho decorato con le palline rosse, le palline verdi, le palline dorate, le stelle con i brillantini o brillantinate e la stella e tante luci colorate. E voi come l'avete decorato il vostro? Buon Natale a tutti, ciao!